La prossima edizione di Vini Italy in programma a Verona dal 9 al 12 aprile 2017 vedrà nel quadro di una forte azione di sistema di cooperazione istituzionale la partecipazione unitaria di Regione Campania e Union Camera e Campania, in rappresentanza del sistema camerale campano, al più importante salone vitivinicolo italiano, garantendo in tal modo un'immagine unica e coordinata della Campania e dei suoi sistemi territoriali e produttivi. A differenza delle ultime edizioni, sottolinea il consigliere del presidente De Luca per l'agricoltura, foreste, caccia e pesca Franco Alfieri, il prossimo Vini Italy vedrà la partecipazione della Regione Campania, delle aziende e dei consorsi di tutela del comparto vitivinicolo, insieme a tutto il sistema camerale, all'interno dello stesso padiglione dedicato alla Campania, che sarà caratterizzato da un allestimento unico, basato su un'immagine coordinata, condivisa e progettata sull'attrattività del brand Campania, per poter catturare l'interesse del pubblico e degli operatori del comparto. Cuore pulsante del padiglione sarà l'area comune e in posizione baricentrica denominata Piazza Campania, all'interno della quale si svolgeranno momenti di animazione istituzionale ed eventi tematici. La Regione Campania, tra l'altro, coordinerà tutte le attività di comunicazione interna ed esterna, nonché l'elaborazione del programma degli eventi collaterali, che sarà comunque condiviso con Union Camera e Campania, ma anche con il coinvolgimento attivo dei consorsi di tutela e degli altri stakeholder privati coinvolti, conclude così Franco Alfieri.